La questione più importante è se nei prossimi anni riusciremo a rallentare il riscaldamento globale oppure no. Io non ho mai visto una donna più bella in vita mia. Scusa se te lo dico ma sei molto cambiato in quest'ultimo anno. Io sono contento! Ma stai torturando? Ma certo io torturo tutti vero? Tu sei sfinita da lui e io da me stesso. Questa casa è maledetta! C'erano soltanto due persone che valessero qualcosa. Tu ed io in meno di dieci anni siamo diventati come tutti gli altri. Tu sei un grande niente! Ecco cosa sei? Io non ho vissuto! Mi è scappato tutto con le mani! Sai adesso che ci penso io sono veramente molto 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 infelice. Tutto sprofondo nell'immensa luce che riempie l'universo intero. E' la pistola? Non la sposta in cartina! Oviedo Tutto secreti! E' la discolazione Conchia Grudi L'abbiamo all' grade Dio Scriviti electronic ha C fortunately C'è Train Grazie a tutti.